Niente da fare. La fumata bianca non vuole proprio arrivare e neanche quella grigia se è per questo. Eppure le riunioni romane sul tema delle elezioni bassanesi proseguono a pieno ritmo, seppur in forma per così dire ridotta. Voci di Corridoio parlano dell'ennesimo incontro fra i referenti regionali dei partiti del centro-destra, anche se stavolta si sarebbero incontrati solo quelli di Fratelli d'Italia e della Lega. Sul piatto, manco a dirlo, il candidato bassanese e probabilmente anche la partita rodigina sulla quale sembrava essere stato trovato un accordo. Invece con ogni evidenza l'accordo non è stato trovato e il tiramolla continua. Nicola Finco resta il candidato proposto dal carroccio su Bassano, mentre sul versante del partito di Giorgia Meloni sono in balla ancora il vice sindaco Andrea Zonta e Stefano Giunta, vecchia conoscenza della politica cittadina. E qui finiscono i fatti più o meno certi e si entra nel campo delle ipotesi e delle dicerie. I fratelli d'Italia bassanesi infatti non gradirebbero Finco e in generale il movimento sarebbe più propenso a porre il proprio candidato nelle schede. Questa situazione ha causato una ferma presa di posizione della Lega bassanese che ha avvertito i colleghi di coalizione di non tirare troppo la corda. Altrimenti, e questa è una voce sempre più insistente, la Lega potrebbe correre da sola, magari con Forza Italia, che pure si è esposta nei giorni scorsi con la candidatura dell'assessore Mariano Scotton e magari con il centro nato dal ritorno della democrazia cristiana in riva alla Brenta. Insomma un caso da manuale che ormai è all'onore delle cronache regionali per durata e livello di tensione. E il centro-sinistra cosa fa? Dall'altra parte della barricata hanno aperto il popcorn già da un pezzo e aspettano di vedere come andrà a finire. E non sono i soli.